Il compito che ci è stato dato è stato quello di descrivere un po' i servizi che ogni centro ha costruito negli anni nel sistema delle tossicodipendenze. Adesso cercherò di essere veloce ma anche di dare degli spunti. Per dare degli spunti ho voluto analizzare quelli che sono i dati della popolazione nel 2017 nelle nostre strutture e anche quelli che sono gli esiti perché è un lavoro che ci siamo proposti anche con le commissioni di monitoraggio e quello di analizzare un po' su un mandato regionale quelli che sono gli esiti. Stiamo costruendo un po' varie ipotesi, comunque una prima lettura la rendo disponibile oggi per quello che riguarda le nostre strutture. Non sto a fare la storia, ha già detto Giuliano, molto meglio di quello che potrei fare io, quello che fa il CERIS, ma anche il metodo che utilizza il CERIS all'interno della rete dei servizi. Ha parlato di osmosi e di quella osmosi che ci ha permesso oggi di parlare un linguaggio molto più simile di quello che probabilmente veniva usato nel 1982-83 quando siamo nati, quando c'era una contrapposizione un po' tra quelli che erano i metodi e gli strumenti del privato e quelli che invece venivano utilizzati dal sistema pubblico. Oggi questo osmosi, questa rete, ci ha permesso di avere un linguaggio simile ma anche di essere contaminati entrambi da quelle che erano le metodologie di ciascuno. Ma anche all'interno degli stessi enti accreditati, le differenze che c'erano nel 1983-84 si sono via via sempre più calati, ci siamo contaminati anche tra di noi, come enti del privato sociale. Oggi il gruppo CES comunque ha sette cooperative, un'associazione e fa parte di una fondazione. Ci occupiamo di dipendenze, assistenza, mi riferisco a persone con disturbi psichiatrici e anche malati di AIDS e anziani. Disturbi alimentari abbiamo la comunità Parma, poi il settore minori, il centro studi che è importante perché ci aiuta a riflettere sulle nostre prassi. E abbiamo al CEI c'è anche l'Istituto Giuseppe Tognolo che è affiliato all'Università Pontificia Opsilium che è un'università a cui si può accedere e dà il titolo di educatore sociale, la laurea triennale in scienza dell'educazione. Questi sono i servizi delle dipendenze patologiche, l'accoglienza, l'ambulatorio di Tognolo, la torre, la mimosa, la madre bambino, il giro di boa, la comunità pedagogica, il centro, il drop-in, il centro bassa soglia sulla frontiera e il COD. Allora, comincio dall'accoglienza. Comincio quindi a dare i numeri che mi piacciono moltissimo. Allora, quest'anno, quindi fino a il primo ottobre o fino a oggi, sono stati fatti nelle nostre strutture 112 ingressi, 94 maschi e 18 femmine. Qua ci mettono tutte le strutture che abbiamo visto prima, quindi dal COD alla pedagogica, alla comunità terapeutica, eccetera. Questa è l'età media. Vedete in verde i minorenni perché qui alla comunità latore c'è un modulo per minori tossicodipendenti. fino a 58 anni, probabilmente l'età media che invece, non l'età media, sono le persone con l'unità più avanzata che vengono ospitate nella comunità pedagogica. La nazionalità è prevalentemente italiana. Su 112, 100 sono italiani. Due europei e dieci extraeuropei. Quasi tutti, no, quasi tutti. La maggior parte ha il soldo della scuola dell'obbligo. Però ci sono anche 19 persone che hanno il diploma di maturità, una persona che ha la laurea triennale e due che hanno la laurea specialistica. La condizione professionale, qui viene rispettato un criterio della proprietezza, per la maggior parte sono disoccupati, 75 su 112. Solo 14 hanno un'occupazione stabile. Due in aspettativa. Per chi va al COD spesso, le persone che vanno al COD a volte succede che possano utilizzare quel tempo in aspettativa e malattia. L'età della prima soluzione è l'assalto. Problemi legali, no. Questo è un dato molto interessante perché facendo il confronto con le altre strutture delle altre province, come Modena c'è un investimento sulle persone che possono effettuare programmi in una situazione di libera scelta. Quindi, e questo secondo me è un dato significativo, 103 persone di queste 112 non hanno misure legali. La sostanza d'abuso primario, quello che diceva Ferrenti, l'eroina sta cedendo sempre più il passo alla cocaina. 30 persone, 26 cocainomani, come prima. Poi c'è un dato importante anche rispetto all'alcol, 19 e 14 sui cannabinoidi. Questi sono solo gli indi di Modena, quindi ho escluso dai nostri servizi tutti quelli che potevano provenire dalle altre province o regioni d'Italia. Sostanza d'abuso secondario è la cocaina. Poi c'è sempre una certa... il dato interessante rispetto al carabinoide dell'alcol che secondo me li chiamo l'olio e l'aceto, no, di ogni sostanza. Infatti l'altra sostanza, come terza, l'alcol e i cannabinoidi prevalgono nettamente sugli altri. Poi abbiamo la chetamina, le benzodiazepine, che è un dato che si rivela sempre più presente nelle storie delle persone che vengono nelle nostre strutture. Il COD. Adesso l'illustro, poi vi do qualche dato. Ecco, c'è una riga tutta spabolata, ma fa lo stesso. Quello che volevo dire è che il COD offre un percorso, due tipi di percorsi, uno di tre mesi, classico, con un mese di proroga e poi c'è il cambio di rotta, che è stato questo progetto innovativo che ha consentito alle persone di poter svolgere il loro percorso in un mese con la proroga dei 15 giorni. Il cambio di rotta, lo ricordo agli operatori, prevede due step. Uno di 15 giorni, entro i quali gli operatori dell'SDP devono attivare la prima verifica e il secondo step, un ulteriore 15 giorni, entro i quali deve essere definito e pianificato il percorso successivo e l'eventuale richiesta di proroga. Per quanto riguarda il cambio di rotta, non riusciamo, così come facciamo invece per il percorso classico, a effettuare la testistica e una diagnostica approfondita. Quindi facciamo una relazione, è caduto il discorso di Giulia, riusciamo a fare una relazione, un'osservazione, non dico superficiale, ma comunque attenta per il periodo che le persone stanno nella nostra struttura, però non possiamo utilizzare tutti gli strumenti che vengono utilizzati nei percorsi più lunghi. Il giro di boa, prima aveva una tempistica di 12 più 12, oggi per facilitare la programmazione del percorso e le verifiche del percorso e anche analizzare un po' quelle che sono il bilancio, fare un bilancio delle competenze degli ospiti, è stato suddiviso in tre periodi, 12 più 6 più 6, quindi con la possibilità di fare una progettazione individuale importante. Il giro di boa ha un appartamento di rientro, 6 più 6, i primi 6 mesi con una spesa totalmente sanitaria e gli altri 6, e quindi bisogna programmare l'UVM per stabilire la capacità della persona eventualmente di contribuire alla proroga di 6 mesi, dove le persone possono contribuire per un 15%, se non sono in grado di farlo, ecco che allora l'UVM serve anche a integrare dal punto di vista dell'intervento sociale. Di solito qua c'è un'età media sopra i 30 anni, però sono state accolte anche persone più giovani a seconda poi di quella che è la valutazione congiunta degli operatori. Ecco, rimane la questione degli holder, questo per i gruppi dopo, lo do come stimolo, cioè persone, e noi l'abbiamo visto nel giro di Goa, che arrivano alla conclusione del percorso secondo le tempistiche che ci siamo dati, ma che non riescono ad avere un'evoluzione tale che gli consenta di vivere in autonomia. Quindi è necessario pensare, riflettere a strutture a basso costo come potrebbero essere appartamenti, situazioni di coausi, che per adesso si parla molto in inglese, quindi esperienze di coausi, oppure, secondo me, è necessario anche pensare a strutture con un maggior livello di assistenza per tutti quelli che hanno una situazione psicofisica ormai deteriorata. Una casa San Lazzaro, così come è stata pensata per i seriopositivi, secondo me va pensata anche per persone che sono arrivate a fine corsa e che hanno bisogno quindi di un livello di assistenza che le case di riposo non riescono a garantire perché non hanno operatori in grado di contenere quei comportamenti devianti che comunque queste persone anche anziane manifestano. La torre anche qui è cambiata la tempistica nell'ultima convenzione i mesi di permanenza nel percorso tradizionale sono 10 e la proroghe massima per un massimo di 4 mesi quindi può essere di 1, di 2, di 3 seconda di quella che è la valutazione congiunta dei servizi. La doppia di anni oggi sono 3 più 3 dopodiché il percorso può terminare può proseguire nel modulo tradizionale può proseguire in una struttura pedagogica oppure in altri anni insomma che vengono decisi e pensati per la persona durante la permanenza nel modulo doppia diagnosi. Ricordo a tutti che il medico il nostro medico il dottor Drusiani che è presente interviene solo e soltanto nel periodo di permanenza nel modulo. Poi abbiamo il modulo blog che non è in convenzione ma se ne sta parlando in questi ultimi tempi è un modulo per minori tossicodipendenti noi possiamo accogliere i minori secondo la legge regionale del 1904 del 19 dicembre 2011 che prevede l'inserimento in comunità terapeutica dei minori che abbiano compiuto 16 anni qualora i servizi o il tribunale ne ravveda la necessità quindi noi abbiamo un modulo sia a Modena che a Parma il reinserimento è di 6 mesi più 6 abbiamo adesso appartamenti in Viale Verdi sono 3 posti maschi per i maschi e 4 per le femmine stiamo prevedendo la costruzione di appartamenti dove avete parcheggiato la macchina di case simili a quelle della Mimosa per poter ampliare l'offerta del rientro i gruppi post trattamento noi abbiamo anche dei gruppi e qui è un intervento che viene fatto gratuitamente perché non è previsto in convenzione ma c'è una partecipazione sempre maggiore di persone che hanno finito il loro percorso o che sono state anche inviate dai servizi che partecipano ai gruppi di rientro post trattamento la partecipazione di questi gruppi ci fa dire che c'è un bisogno sempre maggiore perché sono molto partecipanti casa Mimosa due parole io ho più servizi mi scuso se ci metto un po' di tempo sono tre posti in convenzione 12 più l'eventuale tua proroga e quindi 6 più 6 la fase di reinserimento se entri sei mesi sanitario sei mesi socio sanitario abbiamo una casa di rientro anche per le madri con bambine in questo momento è piena in via Siligardi in Mimosa da qualche anno c'è l'intervento dell'associazione profili che è un servizio a pagamento che fa un'opera di supervisione di trattamento e di psicoterapia sia individuale che sulla diade vi faccio un esempio su come possono intervenire gli psicologi dello studio profili di Bologna nei momenti informali naturalmente in accordo con la madre vengono fatti dei filmati al momento del pasto al momento del gioco al momento del cambio del pannolino insomma nei momenti della vita quotidiana di una madre col proprio bambino questi filmati vengono visti prima dagli operatori con i supervisori e successivamente vengono concordati degli approcci degli stimoli che può utilizzare la madre per migliorare il proprio comportamento nei confronti del bambino questa metodologia ha dato dei risultati sorprendenti dovete pensare che tutti gli esiti della mimosa degli ultimi anni sono stati positivi poi in questo momento di contrazione di risorse non tutti i servizi riescono a pagare anche questo tipo di possibilità che è stato però abbiamo visto importante su casi su cui nessuno scommetteva all'inizio sulla frontiera è il drop-in in convenzione qua c'è un errore mi diverto perché c'è scritto che la domenica è chiuso il nostro servizio sulla frontiera funziona dal lunedì alla domenica tutti i giorni della settimana e tutti i giorni dell'anno compreso Pasqua Natale il primo dell'anno c'è stato anche il dottor Ferretti che è venuto a fare un brindisi il primo dell'anno di qualche anno fa accoglie persone che quindi vivono in strada inviati dai servizi e c'è una media di presenza giornaliera che va dai 12 ai 18 seconda degli arresti della temperatura che c'è insomma fuori eccetera eccetera è un servizio difficilissimo gli operatori subiscono ogni giorno quotidianamente un tasso di aggressività molto alto e quindi va tutta la mia stima a chi lavora un progetto di bassa soglia di questo tipo l'ambulatorio non è più convenzionato però accoglie persone che chiedono un trattamento a pagamento sulla cocaina o sulle nuove dipendenze e nello stesso tempo invece in accordo con i servizi abbiamo i gruppi sul gap sul gioco d'azzardo vi do qualche dato e su tutti vi faccio vedere un po' i dati degli esiti parlo di primo secondo percorso perché non perché uno è abbandonato non solo perché uno può avere abbandonato e rientrato ma il primo percorso può essere ci può essere perché una persona vada all'accoglienza direttamente nelle strutture oppure un secondo percorso perché dal cold è passato alla torre oppure al giro di boa oppure terzo percorso perché dal cold è andato alla torre poi al giro di boa quindi aumentando il numero dei percorsi che la persona man mano fa nel suo nel suo programma bello questa animazione allora il trattamento questi sono gli ingressi 59 ingressi al cold 20 alla torre come terapeutica 15 al giro di boa 5 madre bambino e 12 in doppia diagnosi questi sono gli esiti 25 abbandoni 23 l'hanno completato su 5 c'è stata una dimissione concordata non sono stati raggiunti gli obiettivi ma c'è stata comunque una dimissione in accordo con i servizi e 22 sono passati in altra struttura c'è stata anche un'espulsione quest'anno qua mettevo a confronto il cotter con gli utenti di Modena con quelli fuori Modena ma è un dato che non sono riuscito a riflettere più di tanto perché li ho fatti venerdì scorso gli abbandoni su Modena sono il 38 su fuori Modena 16 conta la brevità del percorso conta la distanza quindi una persona che viene da lontano è più difficilmente tentata ad abbandonare ad uscire perché non trova i riferimenti che può trovare nel proprio territorio insomma anche queste sono tutte riflessioni utili il secondo percorso abbiamo questi numeri per le persone che hanno fatto un secondo percorso mi interessano gli esiti ancora in corso 14 completato 4 2 sono passati in altra tutura e 7 hanno abbandonato sono esiti quest'anno secondo me lusinghieri rispetto a quelle che è l'andamento del percorso generale anche qua il confronto finisco con adesso vi lascio lascio perdere quelli dell'ambulatorio sul cocaina e perché le persone vengono in ambulatorio o la rimango sul gap aspetta salto questo questo che cos'è è il gap è il gap 38 38 persone in trattamento abbiamo 28 maschi 10 femmine distribuite in maniera molto curiosa a Modena abbiamo solo maschi a capi e invece c'è una prevalenza di femmine sarebbe anche interessante analizzare questo tipo di diversità rispetto al genere l'età media se vada no questo è il range non è l'età media vada in 32 e in 74 anni l'istruzione non c'è una prevalenza di persone che hanno la terza media però c'è qualcuno che ha fatto anche la maturità che ha la maturità e uno che ha la laurea magistrale sono quasi tutti occupati a differenza delle persone che vengono in comunità molti pensionati su 30 abbiamo visto 38 12 sono in pensione penso che l'età media più alta l'abbiamo Mirandola perché i nostri gruppi si svolgono a Modena Carpi e Mirandola non lo ho specificato scusate la residenza vedete Carpi 12 Modena 7 e questi sono tutti gli altri paesi che non riuscite a leggere faccio fatica io ecco questo è il gruppo perché abbiamo un trattamento individuale e un trattamento di gruppo a Modena 16 in questo momento Carpi 13 e a Mirandola 9 un albanese e tutti gli altri sono italiani l'accesso è quasi è prevalentemente su un dio cert uno dai servizi sociali territoriali uno è un familiare l'accompagnato da noi e tutti ci sono autonomi sono venuti autonomamente al toniolo quasi tutti partecipano al gruppo però qualcuno sceglie e non è pronto ma oppure anche sceglie di fare solo un trattamento individuale oppure viene proposto da noi per le caratteristiche che ha solo il trattamento individuale i giochi 21 su 38 vengono perché hanno un problema con le slot poi c'è Gratterinci 6 5 per Terminali di Videolotterie scommesse che non lo so cos'è dopo me lo spiegherete e uno per un problema di gioco per le superi nell'otto in lotto le conclusioni l'innovazione è la nostra parola d'ordine ma le conclusioni sono la premessa che ha fatto Giuliano insomma il CES ha saputo crescere passando da un sistema chiuso rigido a un sistema aperto con la rete con la FIT con il contributo del centro studi e con l'università che collaborano con noi grazie a tutti grazie